cari amici telespettatori ieri sera grandissimo il concerto di remember the time tributo a michael jackson con la grandissima barbara cappaccioli grandissime sono state le emozioni abbiamo ricordato anche il povero valerio negrelli che come sapete è scomparso da un incidente l'altro ieri e quindi è stata una serata molto emozionante ed emotiva con le varie canzoni di michael ci siamo emozionati abbiamo ballato sorriso cantato e di tutto è stato veramente un grandissimo tributo che consiglio a tutti gli amanti di jacko di andare a vedere perché i remember the time sono un gruppo famosissimo che ormai lavora da più di 10 anni quindi se andrete a vederli farete anche un tributo a valerio perché insomma è stato un grande musicista e quindi va ricordato e detto questo lo salutiamo con questo video che dedichiamo anche a lui pensando che ci guarda dall'assù e e quindi ha dato molto alla musica e quindi era giusto anche ricordarlo e così detto questo saluto tutti gli amici del gruppo remember the time ed è di coloro questo mio video un bacio a tutti e sempre vivo a michael